Purtroppo è avvenuto un incidente ma fortunatamente è andata decisamente bene perché raccontare di un incidente ferroviario senza parlare di morti è una cosa abbastanza singolare. Poteva avere risvolti ben più gravi l'incidente che si è verificato tra un convoglio ferroviario ed un'auto all'altezza del passaggio a livello di Santa Mama in Casentino. È in prossimità di una curva e senza sbarre il più pericoloso che dobbiamo gestire, afferma il presidente di LFI, Maurizio Seri. Sono anni che sollecitiamo la chiusura di quel passaggio a livello perché davvero è quello più problematico ma soprattutto più pericoloso che abbiamo ancora in essere nella linea ferroviaria. Purtroppo ad oggi non ci sono state risposte positive in questo senso mi auguro davvero che dopo quanto è successo ieri si possa raggiungere questo obiettivo. In questo caso c'era il semaforo, era rosso, l'allarme acustico era in funzione l'auto non sarebbe dovuta passare. Il 42enne a bordo della Forda invece ha attraversato e l'impatto è stato inevitabile. Alla fine l'uomo ha riportato ferite ma per fortuna non gravissime ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Donato. Aspettiamo tutti la realizzazione definitiva di questa variante della 71 che dovrebbe consentire quella sì la definitiva chiusura di questo passaggio a livello. Io mi auguro che quanto fatto ieri, cioè la posizione di Transienne in ogni senso di marcia rispetto a quel passaggio a livello possa essere una condizione già oggi definitiva.